Le decisioni per lo smaltimento di rifiuti tossici e industriali venivano prese anche all'interno di alcuni circoli culturali di Arezzo. Sono affermazioni pesanti quelli che emergono dalla deposizione del pentito dei casalesi Carmine Schiavone, rilasciata nel 1997 davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e diventata pubblica in queste ore. Arezzo e la Toscana, secondo quanto riferito dal boss pentito, erano al centro degli interessi criminali della Camorra. I camion venivano riempiti di rifiuti tossici in tutta la regione e arrivavano in Campania per essere smaltiti illecitamente. Il traffico l'avevano iniziato mio cugino Sandocan e Francesco Bidognetti, insieme ad un certo Cerci Gaetano, che aveva già intrattenuto rapporti con dei signori di Arezzo, Firenze, Milano e Genova, racconta il pentito. Il coordinamento generale era comunque curato dall'avvocato chianese. Ed è proprio quest'ultimo, stando alle dichiarazioni di Schiavone, ad aver introdotto Cerci in circoli culturali ad Arezzo e Milano, dove aveva fatto le sue amicizie. Attraverso questi circoli entrò automaticamente in un gruppo di persone che gestiva i rifiuti industriali, tossici o meno. Tra i nomi fatti dal pentito, anche quello di Licio Gelli. Da chi ritiravano i rifiuti, i camion e la domanda della commissione parlamentare, li prendevano anche a Santa Croce sull'Arno, risponde Schiavone. Andavamo nelle industrie o in capannoni, ma potevano esserci anche trasbordi da un camion all'altro.